... Sono felicissimo che è arrivato qualcuno almeno Non so se fanno tutti finta che gli sto simpatico o devi dei soldi a tanta gente La torta è per 7 persone, pensavo al massimo venissero in 10 Ma guarda qua, qua non c'è nessuno, no 10 persone, non c'è nessuno Guarda, 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 bene Signore e signori, vai more! Ma che vai more? 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 Grazie per la visione!